Allora, in quest'ora che ci manca, io direi, finiamo la parte di Event Handler e poi facciamo un esempio per tutto il resto del tempo e se il forum non riusciamo a farlo oggi, lo faremo, tanto, ripeto, non ci serve per lunedì sicuramente, per il laboratorio non serve il forum. Una domanda che è stata fatta è, qual è la differenza in questa slide tra insert adiacente HTML e insert adiacente text. Ecco, la differenza è che insert adiacente HTML si aspetta del file HTML, insert adiacente text invece ha bisogno del testo. Questo vuol dire che se qui scrivete dell'HTML con questo metodo, quest'HTML viene renderizzato come HTML, e quindi se scrivete div, eccetera, non compare a schermo div, ma compare il contenuto dell'HTML vero e proprio. Quindi se scrivete per esempio button, qui qualcosa, come x, come nel nostro esempio, eccetera, non fatemi scrivere tutto, e lo inserite qui, qui compare a schermo un bottone con una x in mezzo. Se invece scrivete questa stessa cosa qui, qui a schermo compare un minore, button, maggiore, x, quindi compare il testo vero e proprio, non compare il parsing dell'HTML. Quindi qui inserisce solo il testo, qui fa il parsing dell'HTML di quel testo. E poi per il resto è uguale, ovviamente. Quindi tutte le volte in realtà che trovate text o HTML, c'è sempre questa differenza. Se il text non fa il parsing dell'HTML, lo considera tutto come testo puro, l'HTML invece fa il parsing. Allora, due cose sull'event handling, e poi li vediamo in pratica, che secondo me può essere più efficace. E allora, come vi dicevo, gli event listener, gli event handler, servono per gestire questi eventi, tipo il click nel browser. Quindi tutto, già lo sito in browser, tutti i siti web, tutte le applicazioni web, usano questi concetti, ovviamente. E gli eventi sono determinati da due tipi. Uno, l'elemento che genera l'evento, quindi il bottone che cliccate, che viene chiamato in JavaScript event target, non source, ma viene chiamato target, ma è la sorgente che genera l'evento. E poi il tipo di evento che viene generato. È un click, è un submit, è un keyboard qualcosa, eccetera. E JavaScript supporta tre modi per definire gestore di eventi. I primi due non li guardiamo neanche, perché sono modi vecchi di farlo. Il modo corretto, moderno, è questo di usare una metodo che si chiama add event listener, che aggiungiamo quindi un metodo che aspetta una callback qui per appunto gestire un certo tipo di evento in un certo tipo di modo, in una funzione appunto nella callback che è definita qui, per fare quello che volete voi con quell'evento. E come dicevo, è un metodo che ha il tipo di evento come primo parametro e poi un parametro che si passa nella callback che è l'evento vero e proprio, da cui per esempio recuperare il target, e poi qualcosa che viene fatto nel corpo della funzione della callback. Quindi per esempio add event listener mouse down, quindi l'evento di pressione del tasto sinistro del mouse, la pressione verso il basso, e quando viene cliccato su questo link il mouse, si può stampare a schermo log event punto button, che nel caso del bottone, in caso di questo evento, ci dice il mouse down, a quale bottone è stato associato, se è a quello sinistro o al bottone destro. Event punto target ci dice invece questo link. Event punto target punto id ci dirà my link, perché è l'id associato a quell'elemento specifico nel DOM. Oltre a il target che è associato all'evento, c'è il tipo di elemento che ha generato l'evento, il tipo, click, mouse down, eccetera, c'è anche un altro metodo che si chiama stop propagation per fermare la propagazione dell'evento nel DOM. Perché? Perché magari io intercetto il bottone giù del mouse su una tabella, allora quel bottone giù poi viene propagato in tutti, in tutta la pagina. Io magari non voglio che questo bottone giù venga propagato dappertutto, ma voglio che la prima volta che intercetto il bottone giù, lo gestisco io e poi non voglio che questo evento venga mandato a nessun altro come event listener, perché magari ci sono altri elementi che possono reagire al bottone giù o al click. E allora ho un metodo che si chiama stop propagation, che ferma questa propagazione dell'evento nel DOM e posso chiamare da dove voglio anche dall'interno della callback. Come dicevo prima, ci sono un centinaio di diversi tipi di eventi. Ci sono gli eventi sul caricamento della pagina, quindi faccio qualcosa appena la pagina, il DOM è pronto, quindi appena l'albero è stato renderizzato. Ci sono eventi sul mouse, sulla keyboard, sui form, che vedremo dopo, tra cui l'input, su cosa succede nel DOM, quindi il DOM è caricato, il DOM è pronto, il DOM non è ancora pronto, eccetera. Ci sono eventi associati al CSS, quindi animazioni e quant'altro. A questa pagina su Wikipedia trovate un link esaustivo che nessuno ricorda a memoria, però ce ne sono tantissimi per fare praticamente tutto quello che potrebbe venire in mente di fare. Qualche cosa che potete immaginare di fare, un drag and drop, un click, un mouse down, un mouse up, la pressione di un tasto, probabilmente c'è l'evento da intercettare, per fare qualcosa. Come funziona la gestione degli eventi? Beh, la gestione degli eventi parte innanzitutto nel DOM, parte innanzitutto dal fatto che qualcosa capiti, un evento capiti. A quel punto ci sono tre fasi, la fase di cattura, questa è indicata in rosso, che l'evento viene passato da tutti gli elementi del DOM, dal parent, quindi da HTML, in questo caso da Windows, ma da HTML, praticamente, fino a raggiungere l'evento destinazione, l'elemento destinazione che intercetta eventualmente quell'evento. Tipicamente non ci sono event handler in default che sono impostati e in questa fase di cattura nessun elemento, nessun event handler viene lanciato. Poi l'evento a un certo punto raggiunge il target, raggiunge l'elemento per cui è stato definito un event handler e quell'event handler, quella callback, quella add event listener viene lanciata. A quel punto c'è, e qui può essere utile stop propagation, a quel punto c'è questa fase che si chiama bubbling che una volta che questo evento viene generato, viene intercettato, va a vedere se tutti quelli che, come dire, che capitano nei padri hanno bisogno di gestire lo stesso evento. Questo viene fatto in automatico. Quindi qui ho un event handler su un click, poi dopo che ho eseguito questo vado a vedere se per caso il padre ha bisogno di gestire lo stesso evento e poi il padre ancora, il padre ancora, il padre ancora. Se non voglio che questa propagazione avvenga fino a ritornare su Windows e posso usare questo stop propagation, come dicevo prima, che interrompe questa fase. Questo bubbling è comodo non tanto per arrivare a Windows ma perché ci permette di gestire magari un evento che non interessa su questo elemento specifico sul suo padre. Quindi possiamo gestire un evento dei figli a livello del padre in maniera uniforme se volessimo, uniforme attraverso questo meccanismo di bubbling. Quindi noi potremmo definire un evento handler che ci interessa questo ma in realtà lo gestiamo per tutti i figli allo stesso modo a livello del padre. Ci sono alcuni eventi che hanno poi un comportamento di default per esempio quando si clicca su un link quando si fa click su un link si va a quel link oppure quando si sottomette un form l'evento di default è che il form venga sottomesso questi eventi si possono intercettare con l'add event listener e se vogliamo una volta intercettati anche prevenire il comportamento di default perché magari vogliamo quando si fa click su un certo link non si apre una URL non si apre quella pagina ma si stampi qualcosa prima schermo o non lo so possiamo prima di tutto nell'event listener scrivere event.prevent default che quindi disabilita il comportamento di default se esiste tipo il click su un link e rimpiazzare quel comportamento con il nostro codice che verrà nelle linee subito nelle linee di codice subito successive e lo stop propagation l'abbiamo già accennato è appunto ferma e la propagazione tipicamente viene fatta nell'event listener quindi all'interno dell'event listener dove abbiamo l'evento ovviamente facciamo la stop della propagazione di quell'evento specifico e qui ovviamente mancano appunto virgola ma questo ormai lo sappiamo ci sono poi questi tre eventi che sono riferiti al life cycle della pagina che possono essere interessanti da ricordare e vedere le differenze il primo è questo DOM content loaded che è definito su document e quindi ci dice quando è un evento che genera automaticamente il browser quindi non è un evento che è generato dall'utente ma un evento che viene generato automaticamente dal browser quando la pagina HTML è interamente caricata e il DOM l'albero del DOM è pronto in questo momento la pagina è caricata l'albero del DOM è pronto le risorse esterne potrebbero non essere ancora caricate quindi i file CSS i file JavaScript potrebbero non ancora essere caricate del tutto per niente ma la pagina l'albero del DOM è pronto l'OD invece è definito su Windows non su document quindi allo stesso livello di document è un evento che viene scatenato dal browser non solo quando il DOM è pronto quindi quando questo viene eseguito ma anche quando tutte le risorse esterne sono state caricate quindi quando tutti i file CSS tutti i file JavaScript tutte le immagini tutti i video sono stati caricati quindi tutte le risorse esterne questo invece parla solo di quando l'albero del DOM è pronto questo è un load più ampio che aspetta tutto 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 pronto tutto renderizzato fino alla fine quindi se anche un'immagine molto grossa che ci vuole tempo aspetta che quell'immagine venga scaricata dal browser e poi c'è un before unload e unload che quando cerca di o meno è un evento che dovrebbe essere scatenato quando uno sta per lasciare la pagina quindi quando clicco su un bottone per aprire una nuova pagina o quando ho appena lasciato la pagina e ovviamente come immaginerete non è totalmente affidabile come metodo perché è difficile prevedere quando io lascerò davvero la pagina quindi tipicamente non si usa esiste ma non ci si fa troppo affidamento e come si usano sono eventi quindi si crea un add event listener con il nome dell'evento il tipo dell'evento in questo caso DOM event loader e poi la callback che in questo caso è indicata così invece di essere indicata con un narrow function al suo interno io direi fatemi dire due cose sui form tanto non sono particolarmente complesse poi passiamo all'esempio all'esercizio cosa sono i form? i form sono un tag HTML che si chiama form che servono per inviare tradizionalmente inviare informazioni da una pagina web a qualcos'altro quindi quando si vuole inviare informazione anche informazione strutturata si usa in i form i form hanno dei metodi obbligatori uno è action e l'altro è method il metodo ha un default action specifica qual è la URL a cui questo form deve inviare le informazioni le informazioni quindi un punto è un qualcosa per trasferire informazioni da una pagina a un'altra da un'orl a un'altra in questo caso manda del contenuto qui a questa pagina che sarà a questo indirizzo a questo qualcosa che sarà all'indirizzo new task e lo fa con un metodo HTTP specifico che di default se non è specificato è get ma tipicamente un form si sottomette con post per inviare nuovi dati questi sono metodi HTTP questi sono propri metodi HTTP e poi può avere gli altri attivuti di classe le cose normali all'interno del form si possono usare dei contenuti HTML normali e dei controlli dei form che poi sono parte dell'HTML ma hanno alcune differenze hanno la differenza nel senso che gli elementi del form sono elementi HTML che prevedono un qualche tipo di interazione con l'utente un qualche tipo di input questi qui questi qui tranne il bottone questi qui in realtà anche inclusi il bottone sono tutti classificabili come elementi di controllo dei form perché prevedono che io ci faccia qualcosa anche questi bottoni rossi qui quali sono questi elementi c'è il tag input il tag input serve per come questo esempio inserire del testo questi sono tutti tre questi qua sono tutti e quattro tag input questi tag input possono avere un tipo testuale hanno tipicamente un nome associato al tag e poi eventualmente se si vuole un placeholder c'è un testo che compare prima che io scriva il mio testo davvero come utente quindi qualcosa che suggerisce all'utente scrivi questo in questo capo i form nel DOM con tutti i suoi elementi tutti i form nel DOM possono essere recuperati da document.forms che contiene tutti i form nel DOM e a quel punto se il form hanno ID si può poi recuperare il form tramite su ID e questo form appunto elements se gli elementi hanno ID recupera tutti gli elementi degli ID tutti gli elementi del form quindi è possibile prendere il primo elemento e il secondo elemento il quarto elemento del form e utilizzarlo l'input quello di prima vi ho detto può essere tipo testuale o può essere di altro tipo e questi sono tutti i tipi di tutti alcuni dei attributi di tipo e poi continua nella pagina dopo che input supporta quindi input può essere di tipo testuale può essere un input di tipo range può essere un input di tipo telefonico quindi prevedo che lì ci sia un numero di telefono può essere un input di tipo URL può essere un link di tipo numerico può essere un link di tipo radio quindi bottoni quelli quindi quelle opzioni con bottoni rotondi diciamo può essere un input di ricerca quindi aggiungiamo un significato a volte anche un aspetto estetico può essere una data ecco qua può essere una password quindi quando scrivo mi compariranno i pallini invece delle lettere vere e proprie quindi dei tipi che cambiano anche l'aspetto esteriore vedete dei file comparerà choose file e quale tipo di file è tutti all'interno da sto tag input e qui abbiamo usato quattro tag input e questi sono testuali e questi per esempio di data e questo è come Chrome visualizza un input di tipo data quindi input un tag HTML flessibile che può essere personalizzato in base al tipo di attributo e poi si può anche controllare se questo attributo viene rispettato e lo vediamo in un attimo altri attributi per l'input che sono alcuni specifici per alcuni tipi di input specifici sono per esempio required che ci dice che questo input è obbligatorio all'interno di un form è un campo obbligatorio non si può saltare disabled questo input è disabilitato lo vedo a schermo ma sarà magari grigio perché non posso scriverci posso solo leggere read only simile a disable ma è solo in lettura non è non appare anche disabilitato ma posso solo leggere quello che c'è scritto poi c'è size value size per la dimensione value per recuperare dall'input il valore inserito dall'utento per reinserirlo se dobbiamo renderlo visibile a schermo e così via e poi ci sono altri attributi che dipendono in maniera forte dal tipo di del tipo di input per esempio un tipo numerico può avere un minimo e un massimo accettabili questo vuol dire che se io in questo input vado a scrivere un valore più grande di 110 più piccolo di 18 quel campo input non è valido quindi quando sottometto il form posso controllare e il form e il browser automaticamente mi dice no questo input qui deve inserire un numero che deve essere compreso tra 18 e 110 non puoi scrivere un numero piccolo non puoi scrivere un testo perché è del tipo numero ma non puoi neanche scrivere un numero all'autopiacere deve essere compreso qui oppure pattern un'espressione regolare che ci dice qual è il pattern di questo testo questi sono attributi che sono ovviamente specifici rispetto al tipo di input non si può usare pattern con i numeri e non si può usare minimo col testo perché non può essere un numero minimo di numeri inseriti in quel testo insieme a input si usa spesso il tag label è buona norma utilizzarlo che rappresenta la descrizione di quell'elemento input quindi che cosa fa quell'elemento input questo è un elemento input di tipo checkbox quindi in cui non si scrive in cui si può al massimo mettere la spunta e questo è il testo che descrive che cosa è o che cosa si chiede in quell'elemento e ogni volta che c'è un input è buona norma usare anche un elemento label in questo caso in maniera esplicativa per spiegare che cos'è questo elemento anche in altri casi quando c'è un campo testuale magari c'è un placeholder è bene comunque usarlo per soprattutto per motivi di accessibilità altri controlli del form quelli che vi possono venire in mente quelli che avete sperimentato sicuramente nella vostra esperienza di internet textarea quindi un campo di testo multilinea tendina come questo visualizzato in slide il drop down quindi menu a tendina che si scrive in questo modo è un tag id e poi ha delle option al suo interno quindi queste sono le option eventualmente le option possono essere categorizzate quindi c'è questo opt group ma è facoltativo se uno non vuole categorizzarle raggrupparle basta usare option direttamente dentro select e l'opzione che è selezionata di default che viene selezionata assume l'attributo selected quindi quando è selezionata l'opzione selezionata assume l'attributo selected gli altri non ce l'hanno un altro elemento che si usa nei form che noi abbiamo anche usato nella nostra tabella è il bottone il tag button che può avere un tipo ma può anche non averlo quando si tratta l'interno di un form ha tipicamente un tipo che è o submit o reset oppure button che è il default submit serve per inviare il form quindi per completare quell'operazione indicata nell'action del form reset per resettare il contenuto del form ho sbagliato tutto fammelo cancellare input se guardate in quella lunga lista ha anche un tipo che si chiama button ma quindi uno potrebbe fare un bottone usando il tag button oppure usando un input type button button è più flessibile è anche più moderno nasce anche dopo rispetto a input perché possiamo fare più cose rispetto a quello che possiamo fare input ci dà molta più flessibilità soprattutto negli aspetti grafici e estetici e in quello che possiamo mettere all'interno per esempio all'interno di un button potremmo mettere un'immagine come questa più un testo potremmo mettere un div all'interno del button potremmo strutturarlo in maniera più complessa rispetto al campo input che invece è molto molto semplice proprio perché nasce per inserire test inserire checkbox eccetera occhio che con tutti i campi del dei form come questi campi appaiono può variare rispetto al browser quindi quindi alcune volte si riesce a uniformarlo col CSS per esempio con bootstrap ma alcuni problemi possono alcuni problemi possono rimanere soprattutto per certi tipi di input tipo la checkbox non è stilizzabile in maniera facile rispetto per esempio agli altri elementi di input e neanche file per esempio può essere stilizzato rispetto a con del CSS quindi l'input tipo file non potete applicare se non in maniera molto complicata non potete cambiare il colore del bottone se non appunto in maniera abbastanza complicata andando a ridefinire regole interne eccetera quindi questo occhio che con questi elementi sono elementi abbastanza vecchi abbastanza standard che però vengono renderizzati in maniera diversa da diversi browser e è anche difficile in alcuni casi andare a manipolare il loro aspetto estetico tramite il CSS tipicamente quello che si fa si usa bootstrap oppure si fanno cose un pochino più complicate tramite CSS per andare a manipolare gli elementi o costruire elementi che si comportano come una checkbox ma che non sono checkbox o cose così gli e-form hanno anche degli eventi associati che sono eventi come gli altri che abbiamo detto finora e che quindi si possono intercettare con AdventListener per esempio input è un evento che ci dice tutte le volte che qualcosa è stato inserito all'interno di un campo di input change ci dice quando qualcosa è cambiato nell'evento in un campo di input cut copy and paste penso sia facile da immaginare tutte le volte che faccio taglia copia incolle in un campo di input vado a scatenare questi eventi e così via qui c'è un esempio in cui vedete c'è un AdventListener su input quindi tutte le volte che scrivo qualcosa qui e tutte le volte che scrivo qualcosa qui faccio vedere il valore di quello che viene inserito qua dentro quindi quando io scrivo c qua verrà stampato c poi scrivo i qua verrà stampato i eccetera eccetera la sottomissione del form è un evento standard ovviamente il default è esattamente come il click che abbiamo detto prima e quando lo manipoliamo un form in javascript come faremo noi quello che facciamo è prima di tutto prevenire il default in modo che non venga caricata la pagina indicata in action questo perché noi lavoriamo sempre su queste single page application quindi cerchiamo di gestire cercheremo anche il react di gestire tutto sempre all'interno della nuova pagina senza far sì che la nuova pagina venga caricata da zero come risultato dell'operazione del form quindi nel caso dell'evento submit quando gestiamo un form tramite l'evento submit prima cosa di tutti scrivere il preventive il form può anche essere validato il form deve essere validato deve essere validato sul server e deve essere validato nel client è sempre buona norma fare la validazione sul server noi non abbiamo ancora visto il server quindi non abbiamo ancora visto la validazione sul server ma esiste anche la validazione all'interno del browser tipo il campo required tipo l'attributo required che ho citato prima quindi quello è una validazione se quel campo non è è lasciato vuoto ma è segnato come required e il form viene validato non viene validato correttamente quindi da errore così come il min e il max sono tutti attributi di validazione perché è bene fare la validazione client side quindi nel browser perché vorremmo prima di tutto assicurarci che i dati siano già i dati che vogliamo nel formato giusto prima di chiedere al server di fare delle operazioni quindi già facciamo un primo controllo che i dati siano a posto vogliamo magari controllare che la password non sia di tre lettere non sia di tre caratteri ma sia più lunga e così così e così così in ogni caso come scritto qui mai fidarsi totalmente della validazione client side ma riapplicare soprattutto per quelle cose più critiche la validazione lato server che vedremo poi a fine corso praticamente però è una norma avere la validazione sia nel client che nel server e la validazione del client come vi ho già accennato viene già fatta quasi in automatico con il tipo di input quindi email controlla che il valore inserito sia un email corretta se il tipo dell'input number controlla che voi inseriate davvero dei numeri non del testo se c'è l'attributo required ovviamente rende quell'attributo quel campo obbligatorio quindi se non è presente il form non viene sottomesso e così via in più tramite javascript altri minimo massimo il tipo tutte queste cose pattern per il testo l'espressione regolare in più javascript aggiunge potete aggiungere del codice custom per verificare la correttezza e ancora di più il browser aggiunge degli elementi delle pseudoclassi valid e invalid a ogni elemento input quando è valido oppure no quindi se voi in un campo numerico dove il minimo è 5 il massimo è 10 scrivete 18 quello vi dà errore in un certo senso perché non è possibile validarlo e il browser aggiunge a quel tag specifico la classe css invalid e se voi volete potete cambiare l'aspetto estetico di questa classe invalid quando invece è valido aggiungere la classe valid tipicamente non si fa un granché magari si mette una spunta la si fa diventare verde ma è possibile cambiare anche l'aspetto estetico di questo per esempio così tutte le volte che l'input è invalido diventa tratteggiato rosso così e se invece l'input è valido diventa nero quindi è possibile personalizzare anche l'aspetto estetico tramite CSS oltre a personalizzare tramite CSS si possono fare due cose per personalizzare la validazione tramite JavaScript o usare l'event listener quindi ad event listener alla sottomissione di un form e andare a prendere i campi e dire ok questo è un numero è un numero fatto così ha questo pattern quindi si possono verificare ulteriormente in maniera magari più sofisticata alcuni campi oppure usare delle API dei metodi che vengono messi a disposizione per tutti i form che sono questi che ci dicono per esempio lo stato di validità quindi è valido o non è valido se è valido se non è valido perché non è valido perché è troppo lungo quindi non rispetta quel minimo e quel massimo o è troppo corto quindi non rispetta il minimo oppure c'è un problema di tipo io aspetto un numero e tu mi hai scritto una stringa eccetera eccetera e poi è anche possibile fare il check manuale diciamo della validità con lo stesso check che fa il browser in automatico e eventualmente inviare anche un messaggio di validità personalizzato quindi se il campo requisito e il browser di default ti dice il messaggio non lo so il campo è obbligatorio voi volete personalizzare quel messaggio si può fare con questo metodo set custom validity che appunto in javascript volete personalizzarlo prendete il campo fate appunto set custom validity devi inserire tutti i campi compreso questo e come messaggio e a quel punto ogni volta che fa la validazione del form compare il vostro messaggio personalizzato e non i messaggi di default se volete vedere qualche esempio su questo potete andare a questo indirizzo dove ci sono anche dei piccoli esempi di codice di queste constraint validation API ripeto il form è una cosa che l'unid non sarà nel laboratorio però è un tag HTML come tanti altri ha solo queste caratteristiche in più che useremo riprenderemo con React con il form React e useremo da lì in poi domande fin qui allora in assenza di domande facciamo un esercizio facciamo un esempio ok proviamo quindi a passare da questa pagina in questa 40 minuti che mancano passiamo da questa pagina statica chiudiamo la console per ora da questa pagina statica che abbiamo a una pagina in cui questa tabella è creata col JavaScript quindi cosa facciamo quindi esattamente voglio ricreare la stessa pagina però invece di scrivere gli esami qui dentro voglio non scriverli qui quindi voglio cancellare questo allora fatemelo copiare tagliare per ora quindi io cancello questo e voglio quindi ricreare la stessa tabella che avevo prima ma andando a manipolare il DOM e quindi aggiungendo questi elementi nel DOM allora per farlo cosa ci serve? ci serve innanzitutto l'ho già fatto prima assegnare un ID a l'elemento che voglio riempire con manipolando il DOM in questo caso a me interessa riempire la tabella quindi posso sicuramente andare a manipolare posso metterlo qui se ci interessasse riempire e modificare questo potremmo mettere un ID per esempio qui su questo su questo div allora cosa possiamo fare? possiamo innanzitutto riciclare il concetto di exam exam list che avevamo fatto settimane fa ricordate quelle funzioni costruttrici perché alla fine ci interessano quei dati quindi io lo riscrivo più o meno a memoria come era allora ma è esattamente lo stesso codice che facevamo in javascript quindi creiamo una funzione costruttrice così siamo allineati che chiamiamo exam e questa funzione costruttrice cosa aveva? aveva codice nome crediti data score e load che di default abbiamo messo a falso e poi aveva this.code uguale code this.name uguale name this.credits uguale credits this.date uguale djs dobbiamo importarlo date this.score uguale score e this.load uguale load e all'epoca avevamo anche il toString e altri metodi che qui ovviamente non ci servono perché dobbiamo visualizzare pagine cosi in html non stampare a schermo e occhio per la data ci serve dayjs allora dayjs non possiamo in questo momento installarlo come con npm come abbiamo fatto l'altra volta ma dobbiamo importarlo nel browser allora andiamo qui nell'html dove abbiamo importato i questo non è custom css questo è custom javascript dove abbiamo importato i file javascript e aggiungiamo dayjs esattamente come abbiamo aggiunto gli altri dayjs lo prendiamo da qui installazione browser ecco qua possiamo per esempio copiare questo esempio qua che ci va benissimo e aggiungere defer perché dobbiamo caricarlo esattamente come gli altri e poi lo usiamo nel file javascript questo file app.js esattamente come lo usavamo prima nello stesso identico modo buono quindi qui siamo a posto e poi facciamo anche l'exam list che avrà dei metodi che adesso non sappiamo ancora ma ce li inventiamo man mano quindi this list sicuramente questo ritornerà un array di esami ok quindi queste sono le le funzioni costruttrici construction function poi a un certo punto diciamo che avremo quello che per noi è il main quindi quello che crea un oggetto di tipo exam list come facevamo già in node quindi new exam list e poi cosa dobbiamo fare a un certo punto dobbiamo riempire la tabella degli esami no quindi creiamo questo exam list poi dobbiamo riempire questa lista poi renderizzarla qui allora facciamo la lista la mettiamo fatemi incollare ops ecco troppo tardi fatemi incollare di nuovo questo copiare no scusate questo che usiamo come esempio per ricordarci com'è la nostra tabella com'è l'elemento della nostra tabella poi ovviamente non così ma avevamo qui una data del tipo non lo so 15 febbraio 2020 poi qui avevamo il nome dell'esame applicazioni web uno qui avevamo i crediti giusto per ricordarci com'era e qui avevamo il voto eventualmente con la lode e poi qui c'era il bottone che era con la x che era il button danger perché era rosso questo è giusto per ricordarci come è strutturato una riga della nostra tabella perché noi dobbiamo aggiungere una riga per ogni esame quindi andiamo a fare un metodo qui dentro che riempi questa lista noi potremmo riempirla qui direttamente la lista con tutti questi oggetti ma facciamolo con un metodo così è più facile poi anche se le prossime volte dobbiamo continuare a lavorarci facciamo un metodo che chiamiamo init che non fa altro che fare this.list.push aggiungiamo qualcosa in quell'array cosa aggiungiamo nell'array aggiungiamo new exam e passiamo ai parametri come abbiamo fatto in node il codice non lo so per esempio 0 2 g o l dovrebbe essere se l'ho copiato bene l'altro giorno architetture dei sistemi di elaborazione che poi crediti 10 data 2021 0 2 0 1 per esempio voto voto potrebbe essere 28 così abbiamo qualcosa con la loda e qualcosa senza poi facciamo la stessa cosa altre c'erano tre righe facciamo la stessa cosa tre volte e poi qui ovviamente con un altro esame potremmo mettere 0 1 sqm che dovrebbe essere data science e tecnologie tecnologie per le basi per le basi per le basi di dati che è 8 crediti e l'abbiamo superato nel 2020 a giugno il 2 giugno per esempio e qui abbiamo preso 30 lode quindi così usiamo anche la lode e poi mettiamo non lo so 0 2 k p n che è tecnologie servizi di rete e che ha 6 crediti così abbiamo anche questo l'abbiamo superato anche lui nel 2020 sempre a febbraio però il 15 e qui abbiamo preso 26 e a questo punto qui possiamo fare exam list punto punto init così riempiamo la lista degli esami in memoria ora dobbiamo riempire questa tabella allora fin qui è tutto chiaro stiamo rifacendo quello che abbiamo fatto in nod qualche settimana fa però giusto per verificare che ci siamo che niente sembra troppo nuovo o troppo strano vi torna tutto a Tommaso torna tutto ok anche a Mario ok ok potete anche usare i simboli dei partecipanti su Slack se volete come volete voi o usare il microfono come volete ok diciamo che a qualcuno torna spero che gli altri che non rispondano torni anche a loro questo appunto niente di che quello che abbiamo fatto finora con JavaScript è assolutamente roba comune ora cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a riempire questa tabella quindi per esempio potremmo fare un mate una funzione che si chiama fill exam table che mi sembra abbastanza esplicativa che va a riempire questa tabella e quindi definiamo questa funzione definiamola qui sotto quindi function fill exam table definiamo una funzione che non è dentro exam list perché non ha non ha niente a che fare con la lista degli esami e una manipolazione del DOM andremo a manipolare il DOM quindi qua scriviamo per esempio DOM manipulation e qui andiamo davvero a manipolare il DOM allora qual è la prima cosa che secondo voi dobbiamo fare? dobbiamo andare a riempire quella tabella quindi la prima cosa che dobbiamo fare secondo voi ricordandovi quello che abbiamo detto nell'ora passata esatto quindi prima cosa tra gettd gett element e creare gli elementi prima di tutto ottenere l'elemento padre esatto recuperare l'elemento padre poi ovviamente possiamo anche creare prima gli elementi e poi recuperiamo l'elemento padre però ha senso prima recuperare l'elemento padre e poi creiamo le cose che ci servono per riempire quell'elemento padre quindi come lo facciamo? lo facciamo per esempio dato che quello è un id potremmo farlo con document appunto getelementbyid e l'id qual è? questo qua exam table quindi qui tra virgolette exam table questo dobbiamo salvarlo in una variabile che questo exam table è l'elemento il nodo del dom che rappresenta tutta questa tabella quindi che rappresenta tutto questo qua in questo momento tutto questo qua benissimo ora dobbiamo recuperare ora quello che dobbiamo dire è per ognuno di questi esami in questa lista andiamo a creare una riga giusto? allora quello che ci manca è come prendere questo list quindi facciamo un metodo this.getall che non fa altro che fare return this list perché this init non la ritorna ma potevamo farlo anche con potevamo anche farlo ritornare da this init non è un problema però facciamo get all e quindi qui facciamo così const exams uguale exam list punto get all e a quel punto qua passiamo gli esami è chiaro questo che ho appena fatto ci serve la lista degli esami ci serve questa lista qui dato che init non fa return ho fatto un altro metodo che non fa altro che fare return di questa lista e poi l'ho chiamata potevamo anche scrivere qui potevamo anche scrivere qui return this list e evitarci questo metodo equivalente quindi a questo punto abbiamo gli esami cosa facciamo per ciclare sugli esami? per creare una tabella si potrebbe usare in HTML? sì ma prima come facciamo? come cicliamo sugli esami? cosa scrivo qui? questo è javascript un for per esempio sì quindi for è const exam of exams perché è un array e a questo punto facciamo così facciamo dobbiamo dobbiamo creare la riga della tabella e poi ricordate sempre creare l'elemento e aggiungere l'elemento e poi aggiungiamo la riga nella tabella nella pagina quindi prima la creiamo e poi la aggiungiamo allora per crearla fatemi creare un'altra funzione così le teniamo separate chiamiamola examl che sta per elemento dell'esame e una funzione che chiamiamo create examro e la passiamo il singolo esame quindi function create examro passiamo il singolo esame in realtà dovremmo crearla prima funziona lo stesso ma è sempre bene chiamare una funzione dopo averla creata non dopo averla inizializzata dopo averla dichiarata non viceversa poi funziona lo stesso in javascript per l'hoisting però facciamo le cose come vanno fatte quindi prima di usare la funzione dichiariamola come lo facciamo questo lo facciamo nel metodo per pigri e come suggeriva il vostro collega di usare inner html lo facciamo la manina creando un elemento alla volta o facciamo entrambi poi lo facciamo prima il metodo per pigri o il metodo lungo noioso il metodo per pigri che è quello che piace tanto anche a me e in realtà il metodo per pigri è anche un metodo molto molto utilizzato al giorno d'oggi in javascript per fare per fare frontend in javascript quando non si usano framework come react quindi questo questo metodo per pigri in realtà è è un metodo adesso capite perché per pigri è un metodo che che in realtà funziona viene utilizzato molto quando non si usano framework come react o angular eccetera allora cosa fa questa riga beh il metodo per pigri noi vogliamo ritornare esattamente questo no? poi adesso ci dà errore ma lo capiamo un attimo no noi vogliamo ogni volta ritornare una roba tipo questa con questi dati ovviamente messi a posto correttamente quindi prese questo è exam.date questo sarà exam.name adesso ci dà errore ma è normale così exam.credits exam.score e basta il bottone va bene così allora perché ci dà errore al di là delle modifiche che ho appena fatto ma perché ci dava subito errore quando io ho incollato dentro la roba così ripassiamo anche questa cosa qui da javascript esatto bisogna usare il template literal ma perché bisogna usare il template literal è giusto usiamo il template literal perché e intanto inizio a usarlo perché va a capo esattamente esattamente quando va a capo bisogna usare il template literal in realtà c'è molto comodo il template literal adesso perché possiamo fare così quindi possiamo davvero interpolare gli elementi della varia gli elementi di esame dentro in maniera facile chiara e anche molto leggibile rispetto a usare più ecco exam score dobbiamo però gestire anche la lode che noi abbiamo in una variabile diversa e quindi dobbiamo dire che qui c'è exam score e poi dobbiamo metterci la lode quindi un altro dollaro exam punto lode ma exam punto lode dobbiamo mettere l quando c'è la lode niente quando non c'è quindi punto di domanda l due punti virgolette chiuse quindi l'operatore ternale di prima se questo è vero visto che questo è vero falso se questo è vero ci appendo ci stampo l faccio return l quindi qui diventa 30 l se questo è falso niente ritorno la stringa vuota quindi non ritorno niente ok quindi l'abbiamo creata abbiamo messo questo elemento che in realtà è una stringa qui dentro è una stringa compilata e adesso l'aggiungiamo alla pagina quindi exam table che è il nostro elemento che abbiamo recuperato con ed uso inner html secondo voi usiamo inner html inner html uguale exam cosa succede se facciamo così? funziona o non otteniamo il risultato che vorremmo? poi se avete provato lo scoprite già ma però non possiamo fare append dobbiamo fare append e vediamo solo l'ultimo sì allora non funziona perché vediamo solo l'ultimo in realtà non vediamo solo l'ultimo abbiamo anche tolto quella riga che c'era quella riga vuota che c'era che invece ci piacerebbe tenerla perché nella pagina originale se noi fatemi commentare questo nella pagina originale c'era anche questa riga questa riga vorremmo tenerla non possiamo fare append perché append non funziona con le stringhe questa è una stringa questo è il metodo per pigri quindi non possiamo fare append però possiamo fare quel insert che mi ha chiesto qualcuno prima insert adecente HTML e allora potremmo fare un insert after begin quindi subito dopo l'intestazione quindi subito qui di exam after begin del di exam L se noi adesso aggiorniamo questo vediamo l'intera tabella come prima come prima l'unica differenza è che questi sono in ordine diverso nel senso che l'architettura dovrebbe essere prima perché nella lista appare prima ma questo è un esatto li troviamo in ordine diverso però dato che c'è questo elemento non abbiamo altri modi più con l'HTML dato che c'è già questo elemento non abbiamo altri modi più carini di farlo l'altro modo di farlo è fare un insert adecente HTML subito qui subito in fondo e questo inserirlo nel JavaScript però diciamo che non ci interessa l'ordinamento in generale no? perché l'importante è che ci siano l'esame nella lista poi se volessimo l'ordinamento magari cliccheremo su data su esame su crediti per ordinare la tabella non ci interessa l'ordinamento in default però sì in questo caso li troviamo in ordine diverso sistemiamo anche la data così usiamo date perché lo facciamo stampare in un formato decente o nel formato che c'era prima quindi format ricordate possiamo usare giorno giorno mese mese anno 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 che è il formato che c'era prima nell'HTML originale quindi se noi aggiorniamo adesso ci compare la data nel formato diciamo italiano ora questo è il metodo per pigri abbiamo detto vedete corto ora facciamo il metodo non per pigri quindi creiamo la stessa funzione che si chiama nello stesso modo il metodo non per pigri è quello per cui andiamo a creare ogni singolo elemento della tabella manina quindi ogni elemento della riga andiamo a creare questo possiamo adesso cancellarlo tanto ce l'abbiamo qui andiamo a creare un tr poi andiamo a creare un td e dentro ci mettiamo questo poi andiamo a creare un altro td e dentro ci mettiamo questo poi andiamo a creare un td e dentro ci mettiamo un bottone con una classe eccetera 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 ok e questo è il metodo non per pigri adesso capite perché allora creiamo un elemento come si crea un elemento vi ricordate si crea con create element e gli si dice che tag bisogna creare quindi prima di tutto cosa ci serve ci serve un tr e poi per non dimenticarci ritorniamo subito il tr quindi creiamo l'elemento che contiene tutto e poi ricordiamoci di tornarlo perché se no lui non può inserirlo poi ovviamente non possiamo inserirlo così ma scriveremo qualcos'altro per inserirlo abbiamo creato il tr poi cosa dobbiamo creare il td il td di data quindi chiamiamolo td date quindi di nuovo document appunto create element td a questo punto dobbiamo mettere il testo all'interno di questo td quindi td date appunto inner text uguale cos'è che abbiamo detto exam questo qui exam.date col format quindi abbiamo creato questo td e abbiamo creato questo qui e abbiamo scritto dentro questo e dobbiamo aggiungerlo al tr quindi tr appunto append child di td date e abbiamo creato la prima cella ora creiamo ora creiamo la seconda come creiamo la seconda copiamo queste tre righe e andiamo a modificarle e ora capite perché l'altro era il metodo per pigri questo si chiama name questo è sempre un td questo è un td name tanto dentro una stringa inner text di exam.name e poi appendiamo td.name questo l'altro lo chiamiamo il metodo per pigri perché vedete cinque secondi abbiamo finito questo dobbiamo fare copia e incolle ed è anche molto più error prone perché ovviamente andando a fare questa stessa operazione dobbiamo ricordarci di farla in maniera corretta di cambiare il nome delle variabili eccetera poi cosa abbiamo credits però non c'è altro modo di farlo quindi qua un td credits che ha score no che ha credits e poi facciamo l'append di td credits e poi ancora due volte e questo diventa td score a questo punto che dentro avrà exam avrà quello che c'era prima in realtà quindi exam.score più il exam.load punto di domanda l due punti virgolette chiuse e poi infine abbiamo il td button che è il bottone rosso che andiamo a incollare qui andiamo a incollare qui e qui non fatemi creare qui dovremmo fare un document punto create element button eccetera non fatemelo fare se no passiamo l'ultimo quarto d'ora fare sta roba facciamo la versione breve in html uguale tanto questo è uguale per tutti in html uguale questa lada qua boom lo appendiamo e facciamo ritorno tutto chiaro vi ho perso da qualche parte ok qualcuno non è perso mi fa ok ok quindi vedete questo è solo il metodo più lungo rispetto all'altro è un pochino più error prone io preferisco questo però in alcuni casi questo è più preciso e tutto questo viene renderizzato nel momento in cui vado ad aggiungere la tabella quindi dobbiamo fare l'equivalente di questo quindi questo vengono creati quindi questo viene solo creato e viene tenuto in memoria tanto più che noi adesso facciamo un refresh la tabella è vuota perché abbiamo creato ma non aggiunto nel momento in cui aggiungiamo viene aggiunto al DOM e immediatamente è renderizzato nella pagina quindi ora aggiungiamolo davvero però quindi exam punto no come si chiamava exam table cosa usiamo qui per aggiungerlo secondo voi opzioni qui possiamo preservare l'ordinamento se vogliamo no possiamo dare un trucchetto per preservare l'ordinamento potremmo fare append vediamo cosa succede append exam l come suggerito in chat ora append in effetti appende però questa riga ci rimane fuori ci rimane un po' nelle scatole prepend ok prepend va bene e ci dà lo stesso non ordine di prima però ovviamente prepend quindi facciamo la stessa cosa che facevamo in insert adecent HTML volendo c'è un modo per metterlo nell'ordine giusto che è quello di usare insert before insert before non della tabella ma di questa riga quindi avere un id su questa riga quindi recuperare un get element by id di questa riga e fare un insert before a quel punto tutte le volte fai insert before e questo viene ordinato nel modo corretto se volete però dato che l'ordinamento non ci interessa possiamo lasciare così ok abbiamo riempito la nostra tabella quindi manipulazione del DOM si tratta di fare queste cose come se manipulano il DOM vogliamo cambiare lo stile di qualcosa potremmo anche scrivere punto class list ben non lì qui potremmo anche aggiungere lo stile a qualcosa quindi tdscore punto class list e aggiungere qualche classe qualche classe CSS se volessi ora aggiungiamo un event list nel almeno così vediamo per esempio potremmo cosa potremmo fare potremmo o fare dei filtri fare dei filtri potremmo fare un filtro facciamo così aggiungiamo un bottone nell'html qua aggiungiamo un'altra riga prima della tabella div class così ripassiamo anche un po' di html div class row e aggiungiamo un bottone che in bootstrap io vado a memoria ma ha come classe btn e poi btn primary sono i bottoni blu e qui diciamo mostra 2021 e facciamo un bottone che quando viene cliccato ci mostra solo gli esami del 2021 poi volendo potremmo avere un altro bottone che non so se ce la facciamo a implementare che mostra tutto poi magari possiamo centrarli per esempio che non sarebbe male no eh sì ma non qui quindi creiamo un altro div class mxauto ok con dentro questi bottoni questo è solo per l'aspetto estetico non è che sia per altri motivi e poi aggiungiamoci un margine inferiore di 3 voilà una roba così e poi aggiungiamo ovviamente un id perché vogliamo intercettare un evento su questo che chiamiamo questo lo chiamo filter 2021 e questo potremmo chiamarlo id filter all quindi quello che fa già adesso quindi per tornare alla versione della tabella attuale abbiamo aggiunto il bottone con un po' di classi bootstrap niente di che a momenti i bottoni ovviamente non fanno niente quando vengono cliccati ecco il browser ha anche se voi andate in sorgenti e ha anche la possibilità se servisse di andare a vedere il codice javascript che abbiamo scritto noi quindi app.js e mettere the breakpoint e quindi quando si aggiorna no andare in debug e vedere i singoli elementi cosa sono fatti quindi in questo caso cosa c'è dentro exam che exam c'è un codice c'è un credit eccetera 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 questo se servisse quindi si può andare avanti step over debug vero e proprio e se lo si chiude si esce dalla modalità debug giusto perché lo soppiate se vi servisse e allora andiamo a implementare almeno uno di questi quindi qui per esempio potremmo avere una sezione che chiamiamo event listener and handler e andiamo a definire un event listener facciamolo non con che elementi ma i di facciamolo con l'altro con query string document punto query selector query selector non di all perché ne vediamo uno solo query selector di cancelletto perché è un id filter 2021 quindi andiamo a recuperare questo elemento e a quell'elemento aggiungiamo un add event non capisco perché compare tutta questa roba add event listener add event listener di che cosa qual è l'evento che vogliamo intercettare click click e poi scriviamolo questo event anche se non lo usiamo e scriviamo una callback che in questo caso questa è una funzione anonima perché non ci interessa un nome ma potremmo anche dire che questa è una funzione che definiamo prima questo come qualunque callback però farà cose brevi qui e cosa farà questo questo qua deve recuperare questa tabella ma del 2021 quindi facciamo cost exams exam list punto get 2021 che adesso andiamo a implementare e poi facciamo fill exam table passando exams di nuovo rifacciamo quello che faceva qui questo la riempiamo la prima volta qui lo riempiamo quando premiamo il bottone e il get 2021 andiamo nel nostro qui facciamo un this punto nell'exam list get 2021 e facciamo return this punto list punto filter dobbiamo filtrare tutti gli esami la cui data è superiore al primo gennaio 2021 quindi possiamo usare filter exam exam punto date is after che è un metodo di dayjs is after 2021 0 1 0 1 questo l'abbiamo già fatto credo all'epoca quando parlavamo degli esami quindi mi restituisce una lista filtrata solo per dalle date che sono dopo il 2021 allora adesso se noi aggiorniamo questo e chiacciamo il bottone vedete cosa succede che io aggiungo giustamente come dice Lorenzo in chat aggiungo elementi ma li aggiungo perché questo va prepende quindi aggiunge elementi dobbiamo risuotare la tabella come svuotiamo la tabella c'è un metodo facile un metodo un po' meno facile un metodo facile dire che in array element della tabella in html della tabella è virgolette quindi la svuotiamo ma perdiamo anche l'ultima riga e quindi noi non vorremmo tanto oppure facciamo un altro metodo init table per esempio che possiamo definire qui function init table che cosa fa init table beh init table recupera la stessa tabella come prima quindi questa certo tutti gli esempi vengono caricate su di tab nel repository quello wick04 in questo caso wick04 exam table e e poi andiamo a mettere dentro exam table visto che dobbiamo svuotarla la riga che dobbiamo tenere quindi questa essenzialmente quindi se noi adesso aggiorniamo in teoria facciamo 2021 non funziona perché vedete ci dà un errore che dice assegnamento una variabile costante perché giustamente questo perché manca un pezzo esatto manca inner html vedete però ecco gli errori qui li vedete nel browser a maggior ragione abbiamo sperimentato e qui c'era il debugger acceso fatemelo staccare se no ok e qui faccio mostro 2021 io posso cliccare 40 volte sul mostro 2021 ma lui ovviamente mi mostrerà sempre solo questo se rapidamente volessimo fare anche l'altro filtro molto semplice facciamo la stessa cosa però invece di prendere filter 2021 prendiamo l'altro bottone che abbiamo chiamato filter all qui abbiamo già il metodo che si chiama getAll e lasciamo tutto uguale in realtà perché non ci cambia niente dobbiamo inizializzare la tabella poi riempirla quindi se noi aggiorniamo e schiacciamo sul mostro 2021 vediamo qua il 2021 se schiacciamo sul mostro tutto torniamo a visualizzare tutti esattamente come prima e possiamo giocare così all'infinito ok e vedete che anche il 30 load a proposito funziona correttamente ok poi volendo potremmo fare la stessa cosa ma solo le 11 e mezza non la facciamo la stessa cosa anche per questo bottone potremmo mettere un ID a questo bottone e andare a cancellare la riga per esempio no quindi un altro query selector su questi bottoni quindi potrebbe essere un no questo è interessante immaginiamo di e poi la finiamo qui immaginiamo che questo bottone abbia un ID e che chiamiamo sì se 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 mostrare gli elementi che non ci servono sicuramente sì no ovviamente adesso abbiamo tutto in una lista e abbiamo anche relativamente poco tempo ma questa lista potrebbe venire da un database da un server e quindi non essere messa lì e poi quando cancelliamo qualcosa o quando aggiungiamo qualcosa aggiungere al database che quindi è l'unica sorgente vera di informazioni, quindi questo sì. Però volevo solo farvi vedere questo, anche se siamo un po' fuori tempo massimo, ma veloce. Se aggiungiamo un ID qui al bottone della X, e ho messo un template literal perché così riciclo un campo che non abbiamo usato, che è il codice dell'esame. No, a questi bottoni gli dico codice dell'esame. Se io volessi fare quello che ho fatto qui, document.queryselector, di quelli di, intanto per esempio di questo qua, di uno, poi non importa quale. Il primo, di architettura dei sistemi. Voglio solo abilitarlo su architettura dei sistemi. Punto add event listener, sempre su click perché è un bottone, e sempre event. E in questo caso facciamo solo console.log, perché non abbiamo tempo di cancellarlo. Escriviamo cancello più event.target.id. No, l'abbiamo fatto come negli altri. Esattamente come negli altri, solo che stampiamo. Se io aggiorno e vabbè, e non ho errori, ecco, in realtà lo vedo già subito, che mi dà un errore. Perché mi dà un errore, secondo voi? Mi dice 0-2 goal, non è un selettore valido. Ma potevamo anche chiamarlo Pippo, non è un problema. Cioè qui potevamo anche scrivere di... Ah, mancano le virgolette, scusate, intanto. Ma veri? Ok. Perché ci dà errore? Ma potevamo anche scrivere davvero... Ciao, per dire. Non è un problema. E ci darebbe lo stesso tipo di errore. Ci dà un errore diverso, no? Che non può leggere la proprietà diventi listener di null. Ma perché? No, non è un problema di... Qualunque di ci sia. Adesso ci dice che questo non esiste. Perché questo non esiste? Ci dice, non posso leggere la proprietà diventi listener di questa cosa che è null. Perché questo è null? Esatto. Perché non è stato ancora creato. Perché a questo punto... Perché la tabella viene creata qui. Viene creata a riga 116. E quindi non posso aggiungere un eventual listener a una cosa che non esiste. Perché la tabella viene solo riempita qui. Quindi questo, per esempio, potrei o spostarlo sotto e allora quel punto funziona. Cancello ciao. E ovviamente gli altri no, perché l'ho linkato solo qua. Oppure andarlo a definire qua. Qui nel bottone andare a scrivere tdbutton.adventlistener eccetera. Quindi aggiungere l'eventlistener in fase di creazione. Così ogni bottone avrà il suo eventlistener pronto per essere utilizzato. Questo lo finisco. Lo faccio qui. E poi... Questo lo lascio commentato così ve lo carico in quest'ultima riga fatta. Però ovviamente è un eventual listener che premendo le X cancellerà la riga. Non suoterà la tabella, cancellerà solo la riga. Quindi appena si fa refresh o appena si prema un bottone la tabella tornerà intera come la prima. Ok? Domande? Questo ovviamente lo carichiamo nel repository che vi ho detto già l'altro... Vi ho detto qualche giorno fa. Quindi... Quello che finisce con week 04. Ovviamente pensate se qualcuna domanda io tanto fermo la registrazione e lunedì c'è il laboratorio su questi stessi argomenti qui. rifle dunque... ... ... C... E poi... C... C... ... Grazie a tutti.